per urlare sui social media è la sorella della vittima chiara tramontano rilegge con lo sguardo di coloro che conoscevano bene le immagini registrate da una telecamera e si sono aggirati in giro per il web un dolore intimo in un lungo post sui social media chiara tramontano spiega che finora non ha voluto dare interviste o messaggi di memoria di sua sorella il dolore è un'esperienza così intima che è difficile condividerlo con te stesso figuriamoci con gli altri specifica ma vedere le immagini di sua sorella abbracciate dall'amante di impignello che fa il giro del web feriti giulia non abbraccia quella donna l'immagine fu registrata poco prima della scomparsa di giulia tramontano la ragazza in uno stato avanzato di gravidanza scoperto che il suo partner aveva un amante e deciso di incontrarla mia sorella le si avvicinò a lei l'interlocutore con le sue braccia che cade lungo il corpo scrive chiara tramontano è avvolto in un abbraccio che non ricambia